Musica L'uscita forte di Rattalino, serve Toffali, si alza da 3 Toffali, questa volta sbaglia, si lotta a rimbalzo, la palla è di Mamuchelashvili che serve proprio Sasso, si alza da 2 per il primo tiro dei suoi finali che non va, la palla quindi è di Rattalino, Rattalino prova ad attaccare, bello scarico per Mamuchelashvili che va a segno e riporta Biela a meno 4. Massone, Massone, prova ad attaccare nuovamente, sempre in controllo Massone, che assist per Mamuchelashvili che schiaccia a meno 1 Biela, contro Arromando, prova dal palleggio Witton, arriva fino in fondo, serve un grande assist a Mamuchelashvili che schiaccia a meno 1 Biela. Restelli, Restelli gioca una situazione di pick and roll, c'è il cambio quindi Mamuchelashvili resta contro Restelli, Massone al tiro da 3 lo prende, non lo mette, si lotta però a rimbalzo, la melo ce l'ha, Mamuchelashvili, Mamuchelashvili per Witton. Il primo giocatore che eleva il livello dei suoi compagni. Intanto dall'altra parte Biela recupera, non va, è Totè che svetta sopra Mamuchelashvili per Ambrosin, nuovamente a Visconti che sbaglia questa volta e serve la palla a Mamuchelashvili. Ambrosin contro Witton, si alza dalla media, tiro difficile, sbagliato, Mamuchelashvili con un attacco contro Pollone, prova ad attaccare, adesso è tiro difficile, entra ed esce, rimbalzo di Mamuchelashvili, Mamuchelashvili a tutto campo il pallone. Ma buona la ripeto di Pollone che recupera la palla, serve Mamuchelashvili, immediato pareggio di Biella. Metta a campo, serve nuovamente Pollone, si alza da 3 Pollone, sbaglia, ma Mamuchelashvili si è bloccato, c'è il laterale per Pollone, Pollone prova a servire adesso Mamuchelashvili. Grande azione di Biella e canestro di Mamuchelashvili. Campo, alto Sebino, passaggio di Witton che taglia il campo, la palla da Pollone va alla Mamuchelashvili, non ce la fa perché la intercetta Massone che corre tutto a campo. Alza per Mamuchelashvili e che roba di Mamuchelashvili. Serve stanzali ma c'è Mamuchelashvili che capisce tutto, corre in cotopiede e un'altra grande schiacciata di Mamuchelashvili. Grandino inserimento l'anno prossimo nel roster della Serie 2 di Biella, intanto si alza Mamuchelashvili da 3, immediato pareggio su 4-4. Contor Robagna, palla per Radon, Cicci Radon, Cicci, si alza da 3, non è buono, si lotta a rimbalzo, è Mamuchelashvili che ha la meglio.